Ciao a tutti! Oggi dipingiamo le folie del Pino. Nome giapponese Matsuba. Matsu è Pino. Vediamo una forma molto particolare. Le folie sono gli aghi. Sono gruppi di 2-5. Voi conoscete? Le folie del Pino si usano per tisana. Funzionano per abbassare la pressione alta e pulisce il sangue. Allora, dipingiamo insieme. Allora, prima spiego come dipingere la folie. Usiamo pennello piccolo. Prepariamo colore choboku. Prendete prima colore chiaro. Poi togliere acqua. Prendete colore scuro. Schiaccia gira, schiaccia gira. Prendete l'acqua. Prendete l'acqua. Prendete l'acqua e la pancia. Prendete l'acqua. Però questa volta formate gli aghi. Allora, sottile meglio. Schiacciare un po' sul bordo del piatto. Come così. Poi cominciamo. Prima una punta costruire. Schiacciare. Poi sali dritto. Poi secondo stesso punto. Così. Questo è un gruppo di aghi. Allora, la composizione cambiamo. Prima il pennello grande. Costruiamo il centro di rametti. Usiamo la tecnica grafude. Prima mettiamo colore chiaro. Togliere acqua. Costruire la punta. Ok? Poi, grafude, tecnica grafude. Prendete colore scuro. Sul bordo metti. Poi, questo colore, una parte, prendiamo. Uno, uno, due, tre. Tre volte. Allora, appena messo colore, sopra, girate sopra, sotto, non messo colore. Ok? Allora, la mettiamo facciamo semplice. Ma come così. E poi, dopo, aggiungiamo tutti dentro questi due aghi. fori. Tenten, 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 tenten. Ok? Ok? Cominciamo la preparazione di colore, ciòbocco, poi dovere l'acqua, scacciare, cominciamo da qui sul rametti e prima punta, 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 punta. Qualche volta direzione cambiamo e poi quando finito colore aggiungiamo o rimettere colore. Metti questi due aghi, gruppi, un gruppo, così, ok. L'importante è che si vede anche questa linea chiaroscuro. Allora, tenere piccolo, finisce colore subito, aggiungete, ok? E allora mettiamo, mettiamo. Allora, tenere piccolo, finisce colore. Ok, così è il rimetto gruppo, gruppo di folie, le folie, vino, del vino. Allora, tenere piccolo, finisce colore. Allora, tenere piccolo, finisce colore. Allora, tenere piccolo, ciòbocco, poi vai al pò che non ha avuto. E allora mettiamo. In persona non città. Dicione colore.